Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, stiamo su Valentin Airs, continuiamo, lasciate tanti bei pollicioni per questa serie e mi scuso ancora per l'audio perchè sono in vacanza quando registro e non ho il microfono perchè ce l'ho a casa quindi ce l'ho dando un tipo di microfono e delle cuffie e fanno veramente schifo. Ok, c'è un po' qui c'è? Ok, hai dovuto andare a... Allora, scusate eh! che qua mi ricordo, così qua, ah mi serve i zaini ok e qui dove mi metto ok e qua ok andiamo, verso qua ok ok allora, certo ok l'ultimo è tutto al ciamento devo trovare l'ultimo fascia qui cazzo lo trovo si, la porta è chiusa ah ok, una combinazione, certo ok manca qualcosa possiamo conseguire si apre ancora ok ok si apre ancora quindi non non se non si 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 vediamo un po' se è qua la vista giusta ok, ahia, si era comunque di qua, eh, mi serve il caffè, dove cazzo è orvroso? allora, il cappello, che cazzo è? no, non lo so, i cazzo farsi, non lo so Eh, andiamo, questo è un po', vuole, c'è un po' il pozo, eh, fai, ok, ieri, 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 La voce, è venice, no, ok, adesso, per D, per D, per D, per D, per D move, magari per D, per D, per D, per D daspe depending, ogni ultimazione, fai qui al Chabo, ok, 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 a ancora di gh contar fatto, eh, con gli autore. Ok ho capito Prima suono Poi Ok Vieni per accogliere Ok 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 dobbiamo andare su quello Prima allora Per la portiera che c'è chiaro Di qua Ok Vieni per andare L'elmer Ok E possiamo Andarci Un po' No Vieni giù Un po' 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 Ok, ok, c'è via. Ok, segui, segui. Che bocca. Non so facile, scusami. Faccio il gas, vero. Eh, infatti mi tiene di passare. Ecco. Facciamo. Devo andare a tirare, non faccio. Ah, ok, c'è la scala qua. Non è che sono morto. Lì c'è il gas, non dov'è. Ok, qua c'è. 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 Ok Ok, prova c'è della ca area. no aspetta, forse devo andare avanti ossia ritrovo un elemento da mettere quindi proseguiamo quindi, andare di qua eh ok in the sky, George, a british aviator from the royal air force, was spotting the german positions for artillery support ok, ci vediamo qua la prossima volta, raga ciao